Sabato 9 dicembre sarà in edicola FQ Millennium con un numero speciale, per questa volta non più monografico, ma dedicato a temi, storie e avvenimenti che caratterizzeranno il 2018, il tutto per descrivere chi avrà il potere nell'anno che sta per arrivare. Ma partiamo con un servizio straordinario, un servizio di Alessandro Madron che si occupa dei senza potere, dei 50 mila senza sette in Italia, Alessandro per una settimana si è mischiato a loro, ha dormito nei dormitori pubblici e poi tanto altro, le storie di Putin, le storie di Draghi, le storie soprattutto degli imprenditori che in questi anni si sono visti rubare 32 miliardi dallo Stato, un grande scoop in FQ Millennium dedicato al potere. Grazie.